L'ospedale locale ha organizzato una lotteria per raccogliere dei fondi. Il costo dell'iscrizione alla lotteria si può calcolare con la seguente espressione 5t più 3, cioè 5 per t più 3, dove t rappresenta il numero di biglietti che vuoi comprare. Calcola il valore dell'espressione quando t è uguale a 1, quando t è uguale a 8 e quando t è uguale a 10. Iniziamo con la situazione in cui t è uguale a 1. Lo scrivo qui in verde. In questo caso, sostituendo la nostra variabile t con 1, l'espressione diventerà 5 per 1, ecco qui, 5 per 1 più 3, 5 per 1 più 3. E ricordando la regola dell'ordine delle operazioni, sappiamo che per prima cosa dobbiamo svolgere la moltiplicazione. 5 per 1 fa 5 più 3 e 5 più 3 è uguale a 8. Ora vediamo cosa succede se t è uguale a 8. Quando t è uguale a 8, questo lo voglio scrivere in rosa, la nostra espressione diventerà questa. Ricordiamoci di sostituire t con 8, quindi 5 per 8 più 3. 5 per 8 più 3. Lo scriviamo qui. 5 per 8 sappiamo che fa 40. E poi dobbiamo sommare il 3, perciò sarà uguale a 43. E ora l'ultima domanda. Cosa succede quando t è uguale a 10? Lo scriverò in blu questa volta. Quando t è uguale a 10, avremo 5 per 10 più 3. 5t diventa 5 per 10. Al posto della t scriveremo il 10. Più 3. 5 per 10 più 3. E adesso 5 per 10 fa 50. Abbiamo 50 e poi dobbiamo sommare il 3. E 50 più 3 è uguale a 53. Problema risolto.